Capitale della cultura, Pesaro riceve il testimone da Bergamo e Brescia. Fondo anticrisi aumentano le risorse stanziate per il sociale. Evasione fiscale, sequestrati 800 mila euro a un industriale pesarese. Imprese, Confartigianato chiude un 2023 in affanno. Dopo 34 anni abbassa le serrande il regno dei giocattoli tip top. Buona serata, oggi è mercoledì 20 dicembre. Mancano esattamente 12 giorni al 2024, anno di Pesaro capitale della cultura, ma già da ieri sera la città ha ricevuto il testimone di Bergamo e Brescia, che insieme sono stati i capitali culturali del 2023. Le immagini che vi stiamo mostrando si riferiscono alla cerimonia tenutasi ieri al teatro Doninzetti di Bergamo, in cui c'è stato un simbolico passaggio di consegne dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, al primo cittadino pesarese Matteo Ricci, che nell'occasione ha presentato il programma La natura della cultura, illustrando come la capitale metterà al centro i temi della pace e dei cambiamenti climatici, all'insegna di un grande lavoro di squadra che coinvolgerà tutti i 50 comuni della provincia. E restando in ambito di Comune di Pesaro, oggi è stato presentato il nuovo fondo anticrisi in vista del 2024, un protocollo d'intesa con i sindacati che aumenterà le risorse in ambito sociale e che punta a devolverle nel sostegno a pagamenti dei tributi, come ad esempio la Tari. Si chiude il 2023 e l'amministrazione comunale di Pesaro si congeda da dicembre, rinnovando il protocollo d'intesa sulle linee di governo relative al bilancio di previsione 2024. Un patto che è stato siglato oggi fra Comune e parti sociali, rappresentati dai sindacati CGL, CISL, UILB, SPI, FNP e UILB. Si tratta di una sorta di bilancio proiettato al sociale che dopo un 2022 di maxi operazione a sostegno della Tari e un 2023 con 150.000 euro a sostegno dell'emergenza affitti, nel 2024 alzerà lo stanziamento di ulteriori 50.000 euro. La prospettiva è di nuovo la destinazione verso la Tari, ma con uno stanziamento di 200.000 euro suscettibile di variazioni in corso d'opera nella concertazione coi sindacati. L'anno scorso avevamo messo 150.000 euro che sono stati utilizzati in gran parte per fare fronte alle esigenze legate all'affitto, che a Pesaro e non solo è una tematica molto sentita e molto difficile da gestire. Quest'anno abbiamo incrementato le risorse portandole a 200.000 euro, quindi un bilancio di previsione importante. Questo che verranno utilizzate molto probabilmente per quanto riguarda la Tari, quindi per le fasce più deboli e quelle più in difficoltà. Ovviamente varrà tutto condiviso con i sindacati, se varrà confermato o meno questa ipotesi. Quest'anno abbiamo inserito l'amministrazione condivisa, che è un progetto partito un mese fa e che si concluderà a marzo e rappresenta poi il modo di fare sociale nel nostro territorio, quindi vuole mettere nero su bianco un modello di rapporti e legami con il terzo settore, con la sanità, che prevede la coprogettazione e la coprogrammazione. Quindi stare insieme e progettare insieme il welfare di comunità sul territorio. L'altro impegno molto importante è quello dell'integrazione, aumentare, potenziale integrazione sociosanitaria, quindi rapporti con l'Ast. Lì già il nostro è un lavoro estremamente intenso e ci crediamo molto e adesso con la riforma sanitaria dovremo impegnarci ancora di più. Poi ci sono delle partite come quella che viene rinnovata di impegno tutti gli anni sull'Alzheimer noi quest'anno faremo partire degli Alzheimer e caffè e abbiamo già aperto un punto al PUA che riguarda le demenze e l'Alzheimer, quindi ci stiamo attivando e cresciamo e potenzieremo i servizi. Ed ora passiamo alla cronaca perché la Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato 800.000 euro all'imprenditore Augusto Bezicheri, titolare della Isofom di Borgo Santa Maria, società operante nel settore della fabbricazione di profilati in plastica. L'accusa è di evasione fiscale. Le indagini, durate più di un anno, hanno ricostruito un meccanismo attraverso il quale l'azienda in questione sarebbe riuscita a evadere l'IVA sui beni prodotti e venduti dalla società. Secondo la Procura sarebbe stata utilizzata una società intermediaria per emettere fatture false e contabilizzare maggiori costi che risultavano però inesistenti. È stato così disposto il sequestro di 800.000 euro per preservare il credito erariale pari all'importo della frode. Nella nuova sede pesarese nella zona di Torraccia, Confartigianato ha tenuto oggi una conferenza stampa di bilancio su un 2023 in cui si sono registrati numeri rilevanti in termini di cessazioni d'attività di impresa. Non mancano però segnali d'ottimismo verso una ripresa nell'anno che verrà. Siamo nella sede di Confartigianato a Pesaro in via Bedosti, questa bellissima sede che è stata inaugurata un mese fa e che oggi ospita la conferenza stampa di fine anno. Nel pesarese sono 2.800 le imprese che Confartigianato associa. È un dato che è estremamente notevole, soprattutto facendo riferimento che, per esempio, considerate che nel solo 2023 1.264 imprese hanno cessato l'attività. Diciamo che l'andamento ad oggi vede l'edilizia in difficoltà rispetto al Trend Marche, un settore economico abbastanza comunque in difficoltà, però ci sono lati positivi sul dato occupazionale e questo ci fa ben sperare anche nel percentuale, anche in prospettiva per quello che riguarda l'internazionalizzazione. La provincia di Pesaro è una provincia viva da questo punto di vista e quindi dobbiamo essere ottimisti. Un 2023 complesso che eredita anni complessi, in cui il sistema economico comunque ha reagito, sta lavorando, cercando di portare propositività. Sicuramente l'occasione di Pesaro, capitale della cultura, è una grande opportunità per rendere ancora più vivace e attrattivo il nostro territorio. Le nostre imprese sicuramente ne avranno benefici e anche noi come Confartigianato, partner della capitale della cultura, lavoriamo affinché si creino opportunità di visibilità, vivacità e di interesse perché le imprese vadano bene e possono aprirne anche altre. Abbiamo salutato, ripeto ancora una volta, Silvana della Fornace che è stato un pilastro della nostra associazione e diamo il benvenuto a Riccardo che sicuramente avrà un lavoro impegnativo e un lavoro pieno di soddisfazioni. A lui faccio tutti gli auguri, questa nuova sede sicuramente è un contenitore che andrà riempito, non abbiamo paura, sicuramente sapremo fare e avremo un 2024 dove tutte le nostre sfide saranno ottimisticamente affrontate e potremo sicuramente riempirlo con ottime iniziative come abbiamo fatto nel 2023. Purtroppo oggi viviamo in un periodo che le aziende, purtroppo l'abbiamo visto dai dati, non crescono ma diminuiscono, anzi per noi è fondamentale essere quanto più vicini a loro, per essere, come dicevo, fare rete, per dare una risposta quanto mai più possibile reale, pronta, immediata. Ci sarà anche un appuntamento nazionale di confrattigianato in primavera, che è un'altra cosa che abbiamo chiesto a tante realtà, è stata tra le prime a rispondere e in generale appunto un lavoro di identità tra quello che è il marchio capitale della cultura e quello che è un marchio di qualità del saper fare artigiano. Pensiamo che tutti questi messaggi insieme possano contribuire a essere un shock positivo per l'economia del 2024 che ne ha bisogno e poi i progetti di rete che invece sono la base e sono stati presentati oggi avranno il compito di consolidare quella spinta positiva che il 2024 dovrà saper dare. E dalle imprese passiamo al commercio, sabato infatti chiuderà definitivamente i battenti un'attività storica di Pesaro come il Tip Top, negozio di giocatoli che è stato il luogo dei desideri per generazioni di bambini pesaresi. Vediamo il servizio. È una sorta di monumento del quartiere Pantano, il luogo dei sogni, il luogo dei desideri per generazioni di bambini pesaresi. Parliamo del Tip Top, punto di vendita di giocattoli di Vianitti che sabato sera dopo 34 anni chiuderà le serrande definitivamente. 34 anni stupendi, bellissimi, ho servito i clienti, ringrazio tutti loro per quello che hanno dato a me invece loro vengono da me tutti i giorni e mi ringraziano per quello che gli ho dato io perciò io dico grazie a tutti per quello che ho fatto. Questi normalmente sono i giorni di massimo afflusso in un negozio di giocattoli quest'anno è tutto il contrario, avete cominciato da ottobre una campagna di svendita totale che è stata presa d'assalto nei mesi appunto precedenti. Sì, ottobre è stato come il mese di dicembre per noi, uguale, perciò abbiamo anticipato tutto il dicembre però io pensione meritata penso di meritarmela, tutto qua. Una linconia però ma anche un po' di soddisfazione perché dai, voglio dire, è una vita che sono qua dentro sempre qua dentro, un po' di sollievo c'è quando no, chiudi un'attività però mi dispiace perché 34 anni sono sempre 34. La storia del tip top è una storia personale ma è anche la storia di tante attività commerciali che vedono questo tipo di lavoro sempre più difficilmente sostenibile davanti alle grandi catene dei negozi alla grande distribuzione, all'avvento del commercio online. Io ho superato 3-4 grandi distribuzioni però questo qui di internet non ce l'ha fatta perché la gente viene a vedere, il prodotto non finisce mai su internet mentre a noi finisce, grande distribuzione finisce ma su internet non finisce e questo è il male che non ce la fai più andare avanti insomma. Noi abbiamo deciso quest'anno perché abbiamo visto i primi mesi già un calo poi io volevo chiudere il prossimo anno però ho deciso per quest'anno e non mi son pentito di chiuderlo perché vedo che anche i miei colleghi zoppicano. Anche mio figlio magari voleva continuare anche con i dipendenti così però io non l'ho sostenuto perché non vedo alternativa insomma quindi devi buttare, secondo il mio punto di vista dovresti fare un negozietto in famiglia perché con i dipendenti ragazzi ha un costo elevato e invece facendo diciamo da soli in famiglia sì fai un sacco di ore via via però secondo me ancora spazio c'è sul settore giocattolo perché tanti bambini ci sono sempre e sempre ci saranno. È il metodo di acquisto che ha cambiato la gente va su internet e giustamente c'è il prezzo è logico, non lo toccano con mano però quando c'è il prezzo c'è il prezzo. Ed ora cambiamo completamente argomento perché domani giovedì 21 dicembre si tiene il primo dei tre open day di vaccinazioni anti-covid allestite dall'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino nella sede pesarese del Dipartimento di Prevenzione in Via Nitti saranno somministrati senza prenotazione o richiesta d'appuntamento vaccini anti-covid aggiornati alle ultime varianti. Il Dipartimento sarà aperto dalle 8.30 alle 13, dalle 14 alle 18.30 open day che l'azienda sanitaria ha voluto proporre alle porte di un inverno delicato per quel che riguarda il rialzo di contagi ricordando che la vaccinazione resta consigliata soprattutto a cittadini over 60 e soggetti fragili. Gli open day saranno replicati il 23 dicembre a Urbino e il 29 dicembre a Fano. Il Natale della Prefettura di Pesaro Urbino ha portato in dono ieri sera 8 onorificenze all'Ordine e al Merito della Repubblica ad altrettanti cittadini che si sono distinti per il loro impegno a favore della comunità. Il Natale della Prefettura di Pesaro Urbino porta in dono 8 onorificenze all'Ordine e al Merito della Repubblica Italiana. 8 riconoscimenti al Merito di cittadini distintisi per il loro impegno professionale al servizio della comunità territoriale. Onorificenze a corredare un momento d'auguri natalizi aglietato dalle note musicali di grandi interprete della tradizione rossignana come Polina Anichina, Imena Janos, Maria Abramishvili e Jan Cerliansev. È un momento particolarmente sentito per chi viene insegnato di questa importante onorificenza. È un riconoscimento del loro valore e dell'importanza di ciò che loro hanno fatto nella vita e che continuano a fare perché molti sono ancora in servizio. E quindi a loro gli auguri più cari per questo importante traguardo. 5 i titoli di Cavaliere della Repubblica assegnati all'ex dirigente scolastica e assessora comunale Giuliana Ceccarelli, alla dottoressa dell'ospedale San Salvatore Lucia Marinucci, al sotto ufficiale della Guardia di Finanza di Fano Leonardo Nardella, ai vertici dei carabinieri provinciali Gianluigi Cirtoli e Fabio Costantini. Orgoglioso di rappresentare l'impegno che ognuno di noi, gli insegniti, ogni insegnito mette nell'impegno quotidiano nel suo lavoro, sia nel suo volontariato, nell'attività quotidiana. Insigniti del titolo di ufficiali, invece, il dirigente della Polizia Stradale di Pesaro Antonio Colantuono e Sergio Di Palma, sotto ufficiale della Guardia di Finanza in pensione. Conferito il titolo di commendatore della Repubblica al direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti. Io avevo un sogno nella mia vita. Mio padre, quando è morto, ha avuto l'onorificenza di commendatore. Mi sarebbe piaciuto emulare mio padre e ci sono riuscito. Quindi sono felice anche della segnalazione che la mia organizzazione a livello nazionale ha fatto e ovviamente ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio che hanno deciso di consegnarmi questa onorificenza. Onorificenze che per la Prefettura pesarese sono un saluto al 2023, fra gli applausi proiettati a un 2024 in cui Palazzo Ducale sarà baricentrico alle celebrazioni di Pesaro Capitale. Ho voglia di fare tante cose, questo salone sarà utilizzato tantissimo e spero che torni agli antichi fasti del Rinascimento. Quindi un'apertura totale della Prefettura, un Palazzo Ducale che sia di tutti e l'augurio che questa città bellissima, ma tutto il territorio della provincia, sia conosciuto in tutto il mondo e sia visitato. I 110 anni di vita di Aspes diventano un libro che ripercorre la lunga storia della società di pubblica utilità pesarese. Aspes 1913-2023. La storia dell'azienda pesarese di pubblica utilità diventa un libro che ripercorre i 110 anni di Aspes e i suoi legami col territorio. Un volume curato da Cristina Ortolani che è stato presentato a Palazzo Montagnantaldi. La società nasce nel 1913 su impulso dell'amministrazione comunale che non contenta di come veniva gestita dai privati la società dell'illuminazione pubblica a gas l'acquista e di fatto la municipalizza. Da qui comincia la storia di una società che ha gestito a doppio filo con il comune di Pesaro e anche con il territorio tantissimi dei servizi, da quelli più tradizionali del servizio pubblico, quindi l'acqua, il gas, i rifiuti, i trasporti, negli anni fino ad arrivare ad oggi che Aspes ha la gestione di tutta una serie di servizi non solo a Pesaro ma con una compagine sociale di 18 comuni e i servizi gestiti vanno dalle farmacie comunali. Ne abbiamo 9 a Pesaro, 1 a Gabic, 2 a Cattolica e 4 a Riccione per poi arrivare alla gestione del verde urbano, circa 8 milioni di metri quadrati di verde tagliati solo nella città di Pesaro piuttosto che i 26 cimiteri, la vitrifrigorena, la gestione dei tributi, la riscossione equativa, diciamo tutta una serie di servizi che permettono ai comuni di avere un miglior risultato nella gestione industriale. Nel realizzare questo libro abbiamo tenuto presente che Aspes è, come tutti sanno, un'azienda che si occupa di servizi per il territorio e quindi abbiamo cercato di ripercorrere la storia dell'azienda in parallelo alla storia allo sviluppo della città di Pesaro e del territorio sul quale Aspes opera. La nostra storia inizia nel 1913, non con la nascita dell'Officina del Gas, ma con la sua municipalizzazione, esattamente il momento in cui questa azienda diventa pubblica. Da lì Aspes ha avuto numerose trasformazioni nel corso del tempo fino ad arrivare all'azienda che tutti oggi conosciamo, che si occupa di molteplici servizi, dalle farmacie, cimiteri, riscossioni ai tributi, al verde. Un percorso molto complesso che abbiamo cercato di riassumere in questo libro, mettendo appunto in parallelo il territorio e l'azienda e mostrando questa evoluzione anche attraverso un ricchissimo corredo iconografico. Le ex municipalizzate sono la storia di un territorio, hanno contribuito in oltre un secolo di vita al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, con i diversi servizi, alcuni sono rimasti in capo ad Aspes, altri sono passati in capo a Marche Multiservizi, ognuna con le proprie prerogative e peculiarità. Credo che la storia di Aspes sia importante e credo che sia giusto e doveroso fare i complimenti anche al presidente Luca Pieri, che è diventato anche presidente di Assofarmia nazionale, e al direttore Antonio Murgitto, per come hanno governato e portato avanti l'azienda nella sua crescita e soprattutto nei suoi risultati. L'imprenditrice pesarese Stella Scarpa, rinomata Beauty Personal Trainer, sarà uno degli sponsor del prestigioso format Il Salotto delle Celebrità, che accompagnerà le serate del Festival di Sanremo, in programma il prossimo febbraio. L'evento vedrà Stella Scarpa debuttare come unica referente dell'estetico Medical Room, in cui l'imprenditrice svilupperà contenuti che punteranno alla fusione tra la tradizione dell'eccellenza italiana e l'innovazione tecnologica. Ed ora divertenti immagini natalizie, che stiamo vedendo quelle dei giocatori della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, Trevon Blui e Riccardo Visconti, che assieme al DS Stefano Cioppi, hanno fatto visita al centro ambulatoriale Santo Stefano, gruppo COS di Pesaro, intrattenendosi con i bambini e pazienti della struttura, improvvisando tiri a canestro e rispondendo alle loro domande. Stelle di Natale, alberi di cioccolato, eppure una partita di calcio. Tante le iniziative a sostegno di Ail in questo mese di dicembre. Ultimi giorni di avvicinamento al Natale, un momento sempre particolare per l'Ail, per il sostegno all'Ail, che passa per una molteplicità di iniziative, tra queste la partita delle stelle. Seconda edizione di questo match di calcio, che mette contro, contro si fa per dire, la squadra di Vecchie Glorie del Muraglia, che ospita questo evento, con una selezione di medici infermieri dell'Ail. Sì, certo, la seconda edizione sicuramente continuerà nel tempo, e questo viene fatto tutto per raccogliere i fondi per la ricerca contro le leucemie, contro i tumori di sangue generale per Ail. Che 2023 si conclude per Ail? Direi molto positivo, abbiamo avuto un grande sostegno dalla città, un grande, come sempre, d'altronde. Siamo stati presenti con le stelle Natale in tutte le piazze della provincia, è stata una cosa bellissima, perché abbiamo raggiunto un risultato che non c'è mai stato. Parlo come donazioni, e quindi siamo molto, molto contenti, siamo orgogliosi di appartenere a questa associazione e di appartenere anche a questa città. Eccoci arrivati alla fine di questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che la replica si terrà alle ore 20 e 30, però restate con noi perché questa sera, tra pochissimo, partirà questo speciale, che si chiama appunto Visibilia, volontariato e cultura, verso Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. Un approfondimento molto interessante che vi consigliamo di guardare. E poi andiamo ancora avanti, perché come di consueto, il mercoledì è dedicato, la nostra prima serata è dedicata alla Megabox Vallefoglia. Questa sera, alle 21.20, conosceremo Tatiana Cosceleva nella nuova puntata di Gli occhi della tigre. E poi alle 21.30 abbiamo la scuola del domani, un bellissimo racconto, un bellissimo piccolo documentario nel futuro dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II a Vallefoglia. E poi domani vi aspetto con la consueta rassegna stampa, quindi mi raccomando puntuali, collegatevi sul canale 80 alle ore 7.20 oppure attraverso la nostra applicazione oppure attraverso la nostra diretta sulla pagina Facebook. E domani sera torna una nuova puntata di Insieme a Canestro. Vi aspettiamo quindi alle 21.20 in diretta e con noi nei nostri studi di Via degli Abeti ci sarà Riccardo Visconti, che è l'ala della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Marco Cadedu, che voi già conoscete di Rossiri TV, giornalista e opinionista. Potete partecipare in diretta per vincere i biglietti per la prossima partita che si terrà sabato alle 20.30 alla Vitri Frigo Arena. Ho detto davvero tutto, carissimi amici, grazie per averci seguito. Noi ci vediamo domani mattina nella Rassegna Stampa. Grazie per averci seguito.